Un cordiale saluto a voi tutti, buongiorno e bentrovati con l'edizione delle 8 del nostro giornale. Come sempre in diretta dai nostri studi, apriamo questa pagina purtroppo con la cronaca. E' deceduto ieri mattina preso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, Antonio Marangi, 22enne di Massafra. Si tratta del giovane coinvolto nel gravissimo incidente avvenuto ieri alle periferie di Mottola. Un autotreno che procedeva in direzione Taranto ha sbandato forse per l'asfalto bagnato dalla pioggia e il remorchio si è fermato di traverso sulla carreggiata. In quel momento sopraggiungeva in direzione opposta una Citroen con a bordo padre, madre e figlio. Violento l'impatto tra l'utilitario e il mezzo pesante con un triste bilancio, un morto e due feriti gravi. Il leso è il conducente dell'autotreno, sul posto per i rilievi i carabinieri di Massafra, i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia stradale che hanno provveduto a regolare il traffico veicolare rimasto bloccato per oltre un'ora. E cambiamo argomento e passiamo al giallo di Avetrana. Sono notificati nel pomeriggio di ieri ben 15 avvisi di conclusione delle indagini per l'omicidio di Sarascazzi. Le avvisi di conclusione delle indagini preliminari per l'inchiesta sulla morte di Sarascazzi sono stati notificati 15 persone. Si tratta di Michele Misseri, Cosima Serrano, Sabrina Misseri, Carmine Misseri, Cosimo Cosma, gli avvocati Gianluca Mongelli, Vito Russo, Emilia Velletteri, Francesco De Cristofaro, attuale difensore di Michele Misseri e poi Giovanni Buccolieri, i cognati Anna Scredo e Anto Colazzo, la suocera Cosima Prudenzano e poi Giuseppe Nigro e Michele Galasso, altre figure vicine al fioraio di Avetrana. Queste le accuse per gli indagati. Omicidio, volontario e sequestro di persona per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, soppressione di cadavere per Michele Misseri come anche per Cosimo Cosma e Carmine Misseri, nipote e fratello del primo. Il cantadino di Avetrana dovrà rispondere anche della distruzione degli abiti della quindicenne e della sottrazione del telefono cellulare. Quattro gli avvocati accusati a vario titolo di intralcio alla giustizia, soppressione di documenti, patrocinio infedele e sono Emilia Velletri, Vito Russo, Francesco De Cristofaro e Gianluca Mongelli. Tra gli indagati anche Giovanni Buccolieri che dovrà rispondere di false dichiarazioni ai pubblici ministeri e alcuni suoi familiari per favoreggiamento personale. Prossima a quella richiesta di rinvio a giudizio si chiude così la densa fase delle indagini preliminari nella vicenda giudiziaria che continua a richiamare l'attenzione dei più. Operazione della Guardia di Finanza incontra da Feliciolla nella giornata di ieri Le fiamme gialle sul provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Taranto, Toto Disco, su richiesta del PM Epifani, hanno operato il sequestro penale dell'equivalente delle quote societarie, conti correnti, disponibilità finanziarie, libri e scritture contabili, beni immobili e immobili dell'emittente televisiva Studio 100. Vediamo l'operazione. Operazione della Guardia di Finanza questa mattina incontra da Feliciolla a Statte, sede della Jet SRL, società che gestisce l'emittente televisiva Studio 100 TV. Le fiamme gialle sul provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Taranto, Patrizia Disco, su richiesta del PM Remo Epifani, hanno operato il sequestro penale dell'equivalente delle quote societarie, conti correnti, disponibilità finanziarie, libri e scritture contabili, beni mobili ed immobili. Alla società viene contestato il reato di percezione indebita di aiuti dello Stato all'emittenza televisiva, secondo l'articolo 316 TR del Codice Penale, relativa esclusivamente agli anni 2005-2006 e a montante a 887 mila euro. Nella vicenda risulta attualmente un indagato, si tratta dell'allora legale rappresentante della società. Nelle prossime ore il GIP dovrà nominare un amministratore che dovrà gestire l'azienda e prendere decisioni per il suo futuro. Azienda che conta un capitale sociale di poco più di 220 mila euro, quindi insufficiente a coprire la somma indebitamente percepita dallo Stato. Enesimo furto in appartamento nel territorio, all'Eplorano, una casa è stata letteralmente distrutta e derubata. Il malfattore è stato identificato nel fratello della proprietaria e allarme furti in abitazione in tutta la provincia ionica. Periodo di cronaca, quello degli ultimi mesi, denso di furti in abitazione come mai prima nella nostra città. Questo l'ultimo colpo. Lo scorso 23 giugno una coppia di coniugi si rivolge ai carabinieri della stazione di Leporano spiegando che non poteva entrare nella propria abitazione poiché non riusciva ad aprire la porta. Dalla finestra smontata e trafugata, infatti, i coniugi erano riusciti a constatare che l'interno della casa era, a dir poco, devastato. Una volta sul posto i carabinieri riscontrano una scena catastrofica. L'interno dell'appartamento era letteralmente devastato. Pareti bucate, sanitari dei bagni disintegrati, mobili rotti e persino porte e finestre mancanti. Una vicina di casa aveva dichiarato di aver visto un uomo affacciarsi dal balcone della casa distrutta descrivendone le sembianze. Visionati anche i filmati di un esercizio commerciale adiacente all'appartamento, si è potuta scorgere una sagoma che si allontanava trasportando delle grosse tavole, forse le finestre trafugate. I coniugi alla visione del filmato, con grande stupore, affermano che il sostato di cui avevano riconosciuto le sembianze poteva trattarsi del fratello di lei. Un cinquantasettenne di Leporano denunciato lo scorso anno dagli stessi carabinieri per aver ucciso dei cuccioli di cane, bruciandoli vivi in una campagna. Dopo una perquisizione a casa di lui, che accerta la presenza degli infissi rubati, si scopre anche il suo complice, un idraulico che lo avrebbe aiutato nell'opera vandalica. I due sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio, furto e danneggiamento aggravati. I motivi del gesto probabilmente sono riconducibili a dissidi ereditari. Allarme circa i furti lanciato nelle ultime ore anche dai carabinieri di Massafra, che hanno denunciato il verificarsi di diversi furti in abitazione commessi dai ignoti che si introducono nelle dimore private, dopo essersi impossessati delle relative chiavi spesso custodite nelle autovetture dei proprietari. Per questo motivo si invitano i cittadini dei comuni interessati ad adottare opportune precauzioni per evitare il dilagare del fenomeno, in particolare evitando di lasciare le chiavi delle abitazioni all'interno di autovetture o in altri luoghi in cui occasionali malintenzionati potrebbero facilmente entrarne in possesso. Ancora alla crona, Carapina, ieri mattina un furgone portavalori per un valore complessivo di 125 mila euro. Intorno alle 7, 4 uomini travisati da un passamontane, armati di fucili a canne mozze e con indosso giubbotti antiproiettile, hanno atteso in via La Caita il furgone portavalori della Svevia, polli incaricato di consegnare il denaro all'ufficio postale. Sotto la minaccia delle armi, dopo aver immobilizzato le guardie giurate, i rapinatori si sono fatti consegnare l'intera somma per poi dileguarsi a bordo di due scooter. Gli agenti giunti sul posto dopo la rapina, dalle testimonianze dei portavalori rapinati, hanno accertato che i malfattori hanno atteso il furgone nascosti in un vano caldaia di un palazzo e che hanno sequestrato nei locali caldaia per circa 10 minuti due persone, padre e figlio, che pochi istanti prima dell'arrivo del furgone erano nelle vicinanze che avrebbero potuto creare intralcio all'azione criminosa. I malviventi nel corso della rapina hanno anche sottratto i portavalori due pistole Beretta. Gli scooter utilizzati dai viventi sono stati rinvenuti e recuperati in via Venezia. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della squadra mobile. Tragedia sfiorata sempre nella mattinata di ieri in via Fratelli in Mellone. Nella mattinata gli agenti della squadra volante, dopo una segnalazione di un'esplosione in appartamento, si sono recati sul posto. Saliti al secondo piano, nell'appartamento segnalato, i poliziotti hanno trovato la porta d'ingresso danneggiata a seguito dello scoppio. L'inquilina dell'appartamento, una signora di 75 anni che, impaurita, si era rifugiata in camera da letto. Gli agenti, notando un principio di incendio nella cucina, hanno prima messo in sicurezza la bombola del gas e successivamente domato le fiamme, che nel frattempo avevano investito anche il frigorifero. La donna, rimasta fortunatamente illesa, dopo le prime cure del caso, è stata trasportata all'ospedale Moscati. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. E passiamo alla cronaca sindacale. Scongiurato il pericolo di licenziamenti nel call center Tarantino Teleperformance. I 712 lavoratori da escludere dall'azienda grazie ad una lunga mediazione governativa sono salvi. Scongiurato il pericolo di licenziamenti nel call center Tarantino Teleperformance. Una riunione fiume svoltasi presso il Ministero del Lavoro a Roma è terminata alle 7.30 di questa mattina. Un risultato forse inaspettato quello raggiunto. I 712 lavoratori da escludere dall'azienda sono salvi. L'azienda, grazie alla mediazione governativa, ha preferito optare per un ulteriore anno di cassa integrazione. Gli ammortizzatori sociali riguarderanno 460 lavoratori. Erano 500 sino a mezzanotte. Ci sono volute altre 7 ore di trattative perché il numero scendesse. Il ridimensionamento, se avverrà, riguarderà solo 48 persone. Tante quanto hanno scelto, anche invogliate dall'azienda con uno scivolo ritenuto valido dai lavoratori, di andare in mobilità volontaria. Molti punti su cui si è focalizzata la trattativa. Ancora una volta il sindacato avrebbe preferito che la cassa fosse salmata tra i dipendenti, reiterando l'esperienza dei contratti di solidarietà. Si è discusso dell'alto tasso di assenteismo e della malattia, ma soprattutto dell'inaccettabile riproposizione della spada di Damocle rappresentata dalla minaccia dei licenziamenti di massa. Solidarietà all'azienda è stata invece espressa in merito alle misure governative che dovrebbero disincentivare la nascita di call center creati per incamerare i finanziamenti governativi accessibili e che non vengano varate, nonché la necessità di evitare le real ribasso per l'affidamento dei servizi anche da parte di committenti pubblici. Commissariamento della FIMCISL decise al termine di un lungo confronto nel pomeriggio di giovedì. Sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Lazzaro che abbiamo raggiunto telefonicamente. Il commissariamento è stato deciso perché ci sono delle frizioni interne per la verità all'interno della rappresentanza ILVA e quindi sono delle frizioni dovute a problemi di politici interni tra un gruppo di delegati e un altro gruppo di delegati. Quindi questa frizione interna non è stata possibile governare ma soprattutto portare a sintesi e quindi la segreteria nazionale l'ha ritenuto opportuno nonostante ci fosse una posizione diversa della maggioranza dei rappresentanti del direttivo della FIMCISL portare a un commissariamento. Io spero che il commissariamento del commissario che verrà dal segreterio nazionale porti a sintesi le divergenze perché come le sai sul commissariamento è stata zerata la segreteria a zerare il gruppo dirigente di Taranto viene un commissario da Roma e io spero che utilizzi le risorse che sono rimaste in loco. Parliamo di ambiente inquinamento conferenza stampa unitaria di riformisti mille verdi con l'intervento del presidente nazionale Bonelli sulla difficile questione ambientale a Taranto tema principale la necessità della costruzione di una coalizione civico-ambientalista ionica. Bonelli si impegna attivamente da mesi per la questione Taranto nel tempo sta vedendo un cambiamento concreto di pensiero comunque le istituzioni e le forze preposte vogliono questo cambiamento. A me pare che ci sia un atteggiamento diciamo dilatorio che non ci sia una volontà di individuare e di affrontare il vero problema qual è il vero problema? Capire se c'è un nesso di relazione tra l'alta mortalità a Taranto e l'inquinamento. E qual è lo strumento per capire questo? L'indagine epidemiologica. E allora è tutto chiaro. la ragione per cui oggi non si è fatta sino ad oggi l'indagine epidemiologica che è uno strumento scientifico giuridicamente validato e che evidenzierebbe una volta realizzato il nesso di relazione. Allora qualcuno non vuole che ci sia e si dimostri il nesso di relazione? Ecco questa è la grande questione che deve essere affrontata che non viene affrontata e fino ad oggi non è stata affrontata. Le ha affermato dobbiamo trovare un metodo. Qual è il metodo adesso? Il metodo è essenzialmente che si dica con chiarezza ai cittadini quello che si sta facendo. Non basta dire stiamo facendo questo quel monitoraggio tutte quelle cose. Il punto centrale oggi è se l'alta mortalità che si concentra a Taranto è riconducibile a livello di inquinamento. Noi pensiamo di sì però dobbiamo sapere se la scienza le ricerche scientifiche per la dire l'indagine epidemiologica confermano quello che noi sosteniamo e pensiamo e dubitiamo perché una volta realizzata l'indagine epidemiologica quello sarebbe uno strumento molto importante in mano alla Procura e devo ricordare anche in mano ai cittadini che a quel punto potrebbero far valere i loro diritti anche risarcitori nei confronti di chi ha inquinato e di chi in quel caso ha provocato mortalità. Avete affermato che la Commissione Ecologia e Ambiente non esiste più e non funziona più. Adesso a Taranto a chi e a cosa dobbiamo appellarci per un controllo rigido sull'ambiente? Noi dobbiamo continuare a insistere perché gli organi preposti a partire dall'ARPA e dall'ASL incentivano i controlli senza preavviso sia sulla diossina sia sul benzopireine sia sulla catena alimentare sia sulla falda. Però diciamo il disastro ambientale c'è la Procura nell'incidente probatorio ha nominato dei periti proprio per attestare per sondare lo stato della epidemiologia in relazione alla compromissione dell'ambiente ma se facciamo riferimento per esempio al piano delle bonifiche della Regione già oggi possiamo dire che è individuato il responsabile in un inquinamento quasi irreversibile della falda quindi vuol dire che al disastro ambientale già ci siamo bisogna decidere se continuare a far finta di niente o se affermare il principio che in questo territorio vivono delle persone in grado di intendere e di volere dei cittadini che hanno dei doveri ma che hanno anche dei diritti e che da qui si parte e che questo è il primo punto. Fervono i preparativi a Bluestar TV per l'undicesima edizione della Notte delle Stelle performance che metterà in luce i meriti dei tarantini in ogni settore di appartenenza del tessuto sociale l'appuntamento è per il prossimo 16 luglio alle 21 nell'arena della Villa Peripato di Taran a presentare l'evento la bella Nathalie Caldonazzo ospite d'eccezione il cantante Peppino Di Capri il cabarettista Carlo Frisi del Bagallino questo è il promo che vedrete in onda questi giorni dal teatro della Villa Peripato in Taranto sabato 16 luglio 2011 con il patrocinio del comune di Taranto Bluestar TV presenta Notte delle Stelle premio Città di Taranto presenta Nathalie Caldonazzo con la partecipazione di Carlo Frisi cabarettista del Bagallino ospite d'onore Peppino Di Capri Piccole e medie imprese cooperano con l'università dopo la sottoscrizione di un apposito protocollo il comitato costituito in pari numero da membri dei due mondi è tornato a riunirsi Siamo dicevo in questo tavolo per iniziare a dialogare in maniera un pochettino più più semplice una maniera in cui ci si possa capire meglio Piccolo e bello ma se cresce questo lo slogan scelto da Confindustria Taranto sezione piccole e medie imprese per il panel svoltosi con associati e rappresentanti del Politecnico di Bari tra gli stessi il 15 aprile scorso è stato stipulato un protocollo che parte da premesse concrete che la ricerca e l'innovazione sono oggi il principale fattore di successo per la ripresa che le piccole imprese industriali locali costituiscono la sede naturale nella quale sperimentare e diffondere le idee i metodi e le migliori ricerche realizzate in ambito universitario che la realizzazione e diffusione di buone prassi di collaborazione tra imprese ed università locali aumenta il livello di coesione territoriale è stato così costituito un apposito comitato di indirizzo composto da sei membri riunitosi per fare il punto sulle buone pratiche sperimentate a Taranto il consorzio per lo sviluppo industriale garantisce lo scarico delle acque refluo e il mare ad 80 imprese che ne hanno fatto richiesta il collettore nel quale coinfloranno si congiungerà con quello di proprietà dell'ILVA e già il siderurgico teme per la qualità delle acque che verranno riversate 80 aziende insediate sulla statale 106 e sulla via Appia chiedono di poter scaricare le acque refluo e depurate utilizzando la condotta di proprietà dell'ASI il consorzio per lo sviluppo industriale di Taranto a breve tutto ciò sarà possibile lo ha annunciato il presidente dell'ente Emanuele Papalia il quale ha delucidato il quadro venutosi a creare a seguito dell'introduzione della normativa 152 del 2006 in materia ambientale al momento sono due i canali di scarico in mare che servono la zona industriale nel 1982 la rete interna allo stabilimento ILVA e i canali di scarico a mare furono affidati in uso e gestione alla ex nuova Italsider SPA riservando al consorzio il diritto di convogliare nei canali di scarico l'intera rete esterna allo stabilimento previ e intesi operative tra l'ILVA e le altre aziende al fine di salvaguardare la qualità delle acque sversate nel primo canale di scarico confluisce la cosiddetta seconda rete di proprietà dell'ASI quindi al fine di affrontare e risolvere il problema in maniera condivisa i vari enti interessati lo scorso 5 maggio verso la provincia di Taranto alla presenza di regione Puglia ARPA e consorzio ASI hanno tenuto un tavolo finalizzato a coordinare e razionalizzare l'utilizzo di tutte le infrastrutture al termine dell'incontro si è convenuto sull'opportunità di proporre al ministero l'individuazione di due gestori dell'intera rete realizzata dall'ASI è precisamente una rete con gestore ILVA interna allo stabilimento e comprendente il canale di scarico a mare l'altra rete con gestore ASI interamente esterna allo stabilimento è interessante le imprese insediate ed insediande in aree industriali ASI la nostra proposta è innanzitutto in collaborazione con la provincia e con l'ARPA e che si dia la possibilità anche alle altre imprese che stanno nelle aree industriali di poter usufruire dei canali per scaricare a mare l'ILVA logicamente diciamo ha una responsabilità perché è quello che ha la parte terminale la legge prede che chi ha la parte terminale è responsabile però stiamo cercando di organizzare che possa essere diciamo tranquilla che noi faremo i monitoraggi e le salvaguardie affinché tutte le imprese che andranno poi a collegarsi devono avere l'autorizzazione della provincia e saranno monitorate dall'ARPA e dall'ASI la fondazione Taranto e il MAC hanno organizzato una conferenza sul tema Taranto dal dissesto al degrado alla rinascita l'iniziativa si è tenuta presso l'istituto Fermi di Taranto sentiamo le opinioni dei presenti un sogno alberga nelle coscienze di coloro i quali fanno parte del MAC ovvero la rinascita di Taranto dalle macerie del dissesto e del degrado imperante avvocato gigante ma questo sogno può diventare realtà? Io sono sempre estremamente positivo poi Taranto ha una condizione meravigliosa in questo periodo perché abbiamo un presidente del tribunale di Taranto un procuratore Tarantino un procuratore generale pubblico presso la Corte d'Appello Tarantino abbiamo un'autorità portuale Tarantino o non abbiamo nessun commissario che viene da Bari a romperci le uova nel paniere nel senso di bloccare ogni e qualsiasi attività le premesse ci sono le premesse secondo me ci sono tutte che cosa manca manca la progettualità però si continua a parlare io sono un pragmatico lei mi conosce benissimo e sotto l'aspetto del pragmatismo io dico coloro che hanno creato il dissesto fuori via coloro che hanno creato il disagio che abbiamo vissuto in questi quattro anni via e nel dire via diciamo largo a tutte quelle persone giovani e non giovani che possono veramente dare un input nuovo al discorso di Taranto e in questo percorso in questo tentativo di risalita di Taranto un ruolo fondamentale indispensabile lo svolge lo gioca il porto questo porto prima porto dei veleni ora manca sempre qualcosa perché decolli un po' come l'aeroporto beh questo è vero nel senso che noi abbiamo comunque delle grandi progettazioni in corso per le quali per la verità le procedure sono durate un po' troppo tempo sono ancora in corso d'altro canto invece però possiamo intervenire d'urgenza su alcune problematiche che possono sin d'ora quanto meno agevolare gli operatori e sviluppare in qualche modo i traffici ecco gli obiettivi a breve medio periodo per la rinascita del porto per la ripartenza del porto ma gli obiettivi a breve periodo sono appunto quelli di una razionalizzazione delle aree delle banchine e di un miglioramento dei servizi per rendere subito appetibile il porto di Taranto a medio termine ma direi a questo punto anche un po' a breve termine abbiamo comunque l'approvazione definitiva del piano regolatore portuale che sicuramente darà la possibilità di sviluppare in maniera coordinata il porto anche dal punto di vista della riqualificazione ambientale ed urbanistica e quest'oggi prendono il via ufficiale i saldi estivi che si concluderanno il 15 settembre contro la rovescia per consumatori e commercianti che vedono questo periodo come una vera e propria boccata d'aria sabato 2 luglio prendono il via ufficiale i saldi estivi 2011 che si concluderanno il 15 settembre secondo il centro studi di confcommercio ogni famiglia spenderà in media 274 euro si tratta di un evento particolarmente atteso dai consumatori che disponendo di risorse economiche più contenute anche quest'anno hanno limitato gli acquisti soprattutto nel settore abbigliamento gli acquirenti tuttavia non sono i suoi ad attendere l'avvio dei saldi anche per le attività commerciali i saldi rappresentano ormai da qualche anno il fattore risolutivo di un'intera stagione di vendite in un momento come l'attuale di contrazione dei consumi se non ci fossero i saldi per alcune attività il bilancio sarebbe totalmente in perdita la partenza dei saldi estivi 2011 anche quest'anno coincide con il primo weekend del mese e con la programma apertura domenicale del 3 luglio affinché sia garantita la massima trasparenza e siano evitati spiacevoli equivoci che potrebbero danneggiare non solo i consumatori ma gli stessi commercianti si fa riferimento al protocollo di intesa saldi sicuri tra Federmoda Confcommercio Provinciale Ad hoc Adiconsum e Federconsumatori finalizzato a definire le regole condivisi a garanzia del consumatore il protocollo assegna al commerciante un ruolo attivo quale unico garante della qualità dei prodotti di vendita e contestualmente avvia un percorso di conoscenza rivolto al consumatore l'adesione al decalogo comporta che l'operatore commerciale si impegni a rispettare le norme dei comportamenti in esso contenute Confcommercio ricorda al commerciante che è data facoltà di scelta la mezza giornata di riposo obbligatoria ed è consuetudine per molte attività durante i due mesi di luglio e agosto spostare la chiusura del lunedì mattina al sabato pomeriggio ovviamente poiché si tratta di una scelta a discrezione del commerciante sarà opportuno che la clientela faccia riferimento al cartello degli orari sposto in vetrina e prima di chi un appello alla solidarietà domani a Taranto davanti alla concattedrale Gran Madre di Dio in via Lemania Grecia dalle 8.30 alle 12.30 sosterà l'auto-emoteca per la raccolta di sangue da destinare alla terapia trasfusionale di quanti per vivere hanno bisogno di questa preziosa linfa l'iniziativa è stata promossa dall'associazione ionica donatori di sangue bambino microcitemico in collaborazione con l'associazione provinciale per il bambino talassemico di Taranto e la parrocchia considerato il periodo di forte carenza gli organizzatori lanciano un appello a tutti coloro in grado di sostenere questa nobile iniziativa ovviamente sarà presente per tutta la mattinata il personale medico bene termina qui l'edizione delle 8 del nostro giornale grazie per averci seguito rimanete con l'informazione di Bluestar TV arrivederci grazie per aver guardato il nostro